Pronti, eh? Pronti, pronti. Partiti! E in vantaggio Brigandodo davanti a Pit Babe, che spettacolo Evergreen, La Pepa, Silver Street, Brigand, Chiocchio, Laurent Express, Capitano Sbudella e Costabi. All'inizio della curva è in vantaggio Brigandodo davanti a Pit Babe, Silver Street, Evergreen, Capitano Sbudella, Brigand, Chiocchio, che spettacolo, La Pepa e Costabi, poco prima dell'ingresso di tutore è in vantaggio Brigandodo davanti a Pit Babe, Evergreen, che spettacolo, i cavalli entrano in dirittura con Brigandodo in leggero vantaggio, attaccato all'esterno da Pit Babe, lungo la corda Evergreen, seguono, che spettacolo, Brigandodo, Capitano Sbudella, centropista, compie all'esterno La Pepa, si avvantaggia Brigandodo davanti a Evergreen, Capitano Sbudella, Brigand, Chiocchio, e in vantaggio Brigandodo davanti a Evergreen, Capitano Sbudella e Brigand, Chiocchio. Grazie. 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 Grazie.